Già chiedo ufficialmente la proroga per il prossimo tirocinio e anche questo un comportamento, non è risolutivo, ma è anche questo un segnale e allora su queste fasi e sulle cose che bisognerà fare, quello che chiediamo è l'unità massima di voi dei lavoratori. Perché questa assemblea, questa assemblea e propedeutica serve a rinvigorire fortemente la risposta che il 16, noi giovedì 16 daremo a Catanzaro, alla cittadella del governatore. E allora già vi dico che gli stessi bullmani, insieme ad altri bullmani, questo riguarda la merito di Cosenza, gli stessi bullmani che oggi sono stati utilizzati saranno a disposizione per partecipare alla manifestazione che insieme alla CGL faremo. Ci auguriamo insieme al giorno 16 perché è lì anche il momento di una grossa risposta di denuncia e di proposta.